Ciao Nando, ciao Nando, buongiorno. Nando volevo farti i miei complimenti, i miei complimenti per l'articolo che hai fatto scrivere, per l'intervista, sei stato l'unico a livello nazionale, sei stato l'unico, sei il migliore. Hai ragione, confermo anch'io, è una vergogna, il mio commercialista mi ha chiesto il 4%, oltre che ho chiuso l'azienda, adesso che potevo prendere un po' di ristoro come magra consolazione, il mio commercialista mi ha chiesto il 4%, ha già fatto i conti, ha già fatto la domanda, a me mi spettano 20.880 euro, ringraziando Padre Eterno, magra consolazione, mi tocca dargli il 4% di 20.880, equivale a 835 euro più IVA, perché poi vuole anche l'IVA, giustamente, perché la legge è legge, 835 euro più IVA, questo è quello che vuole il mio commercialista, per avermi fatto la pratica per il ristoro per equativo, è vergognoso, scandaloso, mi ha fatto piacere trovare l'articolo su QN nazionale, bravo Nando, bravo, sei il migliore, sei una delle persone che sono contento di aver conosciuto in questi anni, mi dispiace di aver chiuso l'azienda, perché se no con te la facevo la tessera, perché tu lo meriti, veramente, bravo Nando, sei un grande, ci vediamo alla Alpensa, ciao Nando, auguri, buon Natale e buon anno, ciao caro, stammi bene.